Ed eccola la persona speciale di questa mattina, Antonello Loiacono, buongiorno! Buongiorno! Ovviamente la persona speciale non è potuta venire e quindi sono venuto io, ma d'altronde... Buongiorno a tutti, buongiorno a te, bella, brava, Barbara... È sempre bella, intelligente! È intelligente soprattutto... Perché tutti vi dimenticate l'intelligente? Perché quella è chiara ed è così evidente che non c'è bisogno e poi... Dall'altra parte invece saluto bello, bravo, intelligente, talentuoso, gentile... Paolo, gentile! Ecco, allora dopo questo svarione ci stava stamattina, dai, grazie Antonello per questa botta di vita... Allora parliamo invece di uno spettacolo che approda per la prima volta in teatro, parliamo di Ed Dall, un omaggio a Lucio Dalla che Gianni Quadrelli ha portato in giro per i diversi locali di Bari e per la prima volta approda in teatro, ci sarai ovviamente anche tu sul palco e non solo! Allora, voglio dire questa cosa qua, allora lo spettacolo è domani, quindi venerdì, primo aprile e non è uno scherzo, parliamo di uno spettacolo che si chiamerà Lucio di Scena, ovviamente la O è tra parentesi, ovviamente un omaggio a Lucio Dalla. Chi nasce? Perché questo spettacolo? Esiste un gruppo di ragazzi pugliesi che sono dei fenomeni come musicisti e quant'altro che si chiamano appunto Ed Dall, che sono Gianni Quadrelli, Pier Dragon, Alessandro Morelli e Antonello Nitti. Loro non sono una cover band di Lucio Dalla, bensì è un vero e proprio omaggio a Lucio Dalla. Qual è la differenza? La differenza è che loro hanno riarrangiato i pezzi del grandissimo Lucio. Il che tradotto vuol dire che ci sono molti pezzi che hanno degli arrangiamenti completamente diversi, per dirti alcuni sono in chiave tango, altri sono in chiave... Insomma, sono molto molto particolari e come se diventassero delle altre canzoni, sempre però rispettando l'energia del grandissimo cantautore Emiliano. Io ho avuto, oltre ad essere amico loro, abbiamo anche stretto una sorta di sodalizio artistico nella misura in cui io ho presentato diverse serate loro, nei locali, oppure qualche concerto. A che mi è venuta un'idea? Ho detto, ragazzi, parlando appunto con Gianni e con Pier, Gianni è il chitarrista, Pier Dragon è il cantante e l'altra chitarra, e quindi ci siamo detti, ma perché non fondere i nostri lavori, e quindi la musica con la recitazione... Le nostre arti... Le nostre arti... E portarle in scena per uno spettacolo tutto nuovo. Sì, quindi far approdare... Io avevo questa cosa da sempre, dicevo ai ragazzi, ho detto, oh, ma perché non fate una cosa in teatro? Questo è da teatro, insomma, no? Sì, perché loro sono molto bravi, devo dire, sono molto simpatici, sono molto ironici tra di loro e con il pubblico, quindi il loro non è mai un concerto, come dire, come lo possiamo intendere... Un po' nostalgico, no? Sì, cioè non è un concerto come lo intendiamo classicamente, quindi sai, canzone... Loro fanno delle vere e proprie scenette tra un pezzo e l'altro, ma questo lo fanno loro de plano, cioè nel senso lo fanno... Sono così. Sono proprio così, non è colpa loro. In più hanno conosciuto me e anche io sono un po' peccato. E quindi non si è capito più niente. E quindi è nata questa cosa qua. Ma in realtà ancora, io ti dico, non so bene che cosa accadrà domani. Ecco, ti stavo per chiedere questo. Come è strutturato lo spettacolo? Cioè che cosa ci dobbiamo aspettare domani sera? Allora, quello che ci dobbiamo aspettare, perché è una cosa che anche io lo sto aspettando... Ci metto in mezzo, dici, no? Sì, sì, no, allora sarà ironico. Da un punto di vista musicale, molto bello, lo dico... Ma perché io sono il loro fan, io ho il loro disco. No, lo voglio dire, ma questo è vero, al di là del... cioè lo metto in macchina, è una roba che mi piace tanto. Fai innamorare le ragazze così? No, ora che ci penso, però non è che per colpa di quello che mi hanno dato. No, no, bugia. Quindi, ottima musica, molta ironia. Ci sarà pure qualche testo mio, che ho messo là, diciamo, in mezzo, ed è la storia, fondamentalmente, di questo gruppo che organizza delle prove aperte e invita alcuni amici. Carina, così. Questi amici è il pubblico. E lo fanno, però, interagendo con il loro manager, un po', come dire, sulle righe. E quel manager sarei io, assolutamente. E da lì in poi, quindi, succederanno delle cose, ci saranno anche, quando parlo di ironia, si farà della ironia anche nei confronti e del teatro e della recitazione e della musica, e della musica in Puglia, e della musica a Bari. Quindi, ci sono determinati elementi. Voglio dire una cosa di cui siamo abbastanza contenti, è sold out. E questo è molto bello, ragazzi. Oh, che bello. Sono molto, molto contenta. Per voi questo vuol dire che lo replicherete a breve? Questo vuol dire che lo replicheremo appena io poi ritorno nella madre terra a Puglia. Anche perché, diciamo, Lontonello, c'è una bella sorpresa che riguarda, a te riguarda anche... L'ottimo Quadrelli. Gianni, Gianni Quadrelli. Sì, e Barbara Grelli, ovviamente. Perché Adamo contro Eva, che è questo spettacolo a cui ho dato la vita, vero, insieme a Barbara, e a Proda... Poi mi prometti, ora ti interrompo un attimo, perché mi è venuta un'idea. La prossima volta però vieni con Barbara qui, perché la dominiamo sempre, però non ci viene mai. Ah, Grelli, ti devi svegliare la mattina. Si deve svegliare la mattina, Barbara, dai. No, diciamo, Adamo contro Eva torna a Roma precisamente il 20 di aprile alla Tognazza Alduse. La Tognazza Alduse, che è un locale a Trastevere di Gianpaolo Morelli, per intenderci l'ispettore Coleandro, e Gianmarco Tognazzi. Peraltro ho scoperto che si chiama la Tognazza Alduse perché il Duse era un teatro. Duse sta per 12 in francese, gestito appunto di proprietà, non ho capito bene, insomma, di Gianpaolo Morelli. La Tognazza esisteva già, era un'azienda agricola fondata dal grandissimo Ugo Tognazzi. E quindi hanno unito alle due... La cosa bella è che la Tognazza nasce come un'azienda agricola che Ugo Tognazzi fondò non per vendere i prodotti, ma lui era di Cremona, no? I prodotti, quindi olio, vino, eccetera, ortaggi, qualsiasi cosa, lui li faceva per se stesso e per la famiglia e per gli amici perché era un grandissimo cuoco Ugo Tognazzi. Mi pare giusto. Quindi dopo la sua scoperta, insomma, alla fine si sono fuse queste due cose, quindi ottima cucina a chilometro zero, eccetera, teatro off e quant'altro. Allora, Paolino mi sta omaggiando con il trailer di Damo Contro Reva. A proposito, andate su YouTube, c'è un canale Adamo... E basta, abbiamo capito. Grazie, Paolino, ti stimo. Damo Contro Reva su YouTube, c'è anche il trailer, quindi potete anche scriverci. Però andiamo per ordine. Noi domani, che è venerdì, ed è primo aprile... Sì, al Teatro Bravo alle ore 21 con Lucio Di Scena. Io insieme Aglie e Dalli, io sono Antonio Loiacono. Piacere. Molto piacere, faccio amicizie anche con il mio amico immaginario. Niente, che bello venire qua ogni volta. Sei contento? Ti sei divertito? Meno male, io sono contento. Sette anni. Sette anni. Sette lunghi anni. Ho conosciuto pure quell'individuo. Dica. Pensa un po'. Dica. Allora, noi siamo davvero in chiusura. Paolo, aspetta, fermati stamattina. Non lo ferma più nessuno. E allora, ricordiamo l'appuntamento ancora una volta, anche se sold out, però io spero che possiate fare nuove repliche al Teatro Bravo domani alle ore 21. Io però ti faccio un grande in bocca al lupo, in bocca al lupo a tutti voi per l'appuntamento del 20 a Roma. Grazie ad Antonio Loiacono. Grazie a te, Barbara. Grazie a Paolino. E viva Radio Bari. Ciao. Io restituisco la linea alla regia di Telebari, ringraziando Federico Semplice, però noi continuiamo su Radio Bari, 88.8 www.radiobari.net.